Fit3D è il primo strumento che ti consente di avere una visione tridimensionale del tuo corpo da cui puoi estrapolare misure, volumi per un programma personalizzato, nutrizionale e di allenamento. Ciao, sono Roberto Uriano e oggi voglio condividere con te la gioia di avere questo strumento nello studio di Napoli per prendermi cura di te. Fit3D è uno strumento dotato di telecamere di profondità. Tramite una ventana rotante gira attorno a te stessa per 30 secondi e queste telecamere di profondità riescono a ricostruire in tridimensionale il tuo corpo in scala 1 a 1. Un sofisticato software riesce ad analizzare la ricostruzione tridimensionale e estrapola numerosi parametri che possono essere utili per il tuo programma nutrizionale e per il tuo programma di allenamento. I punti di forza di questo strumento Numero 1 Non ci sono errori manuali dati dalla misurazione con il centimetro. Avviene la misurazione in modo automatico e prende più di 50 misure di tutto il corpo. Numero 2 Fit3D ti dice quanto devi perdere di massa grassa e dunque ti dice la percentuale di massa grassa che hai e quanto ci vuole per raggiungere il tuo peso ideale. Numero 3 Fit3D oltre a prendere le misure prende anche le aree e i volumi. In questo modo potrai capire se effettivamente il tuo organismo sta rispondendo al programma nutrizionale e al programma di allenamento. Ad esempio se vuoi fare in massa muscolare si può vedere se il volume del muscolo sta aumentando oppure non sta avendo nessun risultato. Oppure se vuoi dimagrire la pancia o i fianchi si può vedere in modo accurato quanto sta avendo effetto il programma nutrizionale e il programma di allenamento. Numero 4 Fit3D analizza la tua postura e il tuo bilanciamento della colonna vertebrale, delle gambe e del bacino. In questo modo potrai vedere se effettivamente ad esempio la tua stasi vino-linfatica possa essere avvenuto anche un problema di postura. E dunque questo strumento può essere utile a fisioterapisti oppure a postulogi in modo da avere un dato più preciso della loro terapia che stanno effettuando. Punto di forza numero 5 Se sei appassionato di modellismo Fit3D ti permette di scaricare il file tridimensionale. In questo modo potrai portare a stampare il tuo modellino in tridimensionale tramite una stampante specifica. E pensa quanto sarebbe bello provvedere ai tuoi amici il tuo modellino dopo tre mesi che sei rimanita. Potrai far vedere il prima e il dopo. E non è finita qui. Ho una bella notizia per te. Tutta questa tecnologia è compresa nel prezzo della prima visita e dei controlli. Dunque abbiamo aumentato la qualità ma tenendo lo stesso prezzo. Vuoi essere tu il primo a inaugurare Fit3D? Ti aspetto per il senso studio di Napoli. Ciao!